Amore, siamo a Laconi, in una bella foresta amazzonica, ah no? Non è amazzonica, sbagliato, quello non è l'amazzonica, toglia, toglia. Siamo in un parco naturale, perché direi semplicemente parco. Benvenuti nella foresta di Laconi! È un parco, c'è le piante, tante piante, animali che arrivano, addio. Sta piove tanto, sembra che siamo davvero nel nero delle Amazzoni, dentro. Credo che non sarà più possibile filmare, addio. Con il l'anetro. Ah, ciao. La situazione è questa. Quindi siamo alla ricerca di che cosa? Un fantomatico castello? Marcondiro. Dirondello. Ciao. Ciao. Abbiamo trovato il castello, ora è ufficiale Mi piace con la finestra verde, inquadrala ma Amore, la finestra non è verde, sono alberi La natura e i giovani d'oggi Grazie per essere venuti, vi vedete Oggi siamo venuti qua a Calasetta per portarvi a vedere l'isola di Carloforte È pieno di lingue, c'è la focaccia, c'è il pesto, c'è tutto Iniziamo anche oggi con la solita colazione e poi al 10 ci imbarchiamo Ci siamo un po' informati, non stiamo andando sull'isola di Carloforte Perché Carloforte è il paesino dell'isolotto che si chiama Isola di San Pietro Storicamente è stata colonizzata da Peiesi nel 1738 E per questo motivo sull'isola si parla lingua nonostante sia l'arco della Sardegna Siamo entrati anche se non volevano farci entrare perché sono cattivi In questo momento è una Finally All'orientamento è un peccato Siamo a Carloforte Oggi c'è una grande manifestazione qui a Carloforte Il girotondo Molto diffusa nella descrizione In sintesi com'è questo vino col piatto? Il vino col piatto è perfetto 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 Purtroppo stiamo partendo Siamo di ritorno a casa Purtroppo stiamo tornando a casa Ci siamo imbarcati sulla Mobi Il vino col piatto è il Rossino Il vino col piatto è infatti Il vino col piatto è il pubblico Quello che volevo dirvi è che purtroppo le vacanze sono finite Quello che dovevamo farvi vedere vi abbiamo fatto vedere Spero il video vi sia piaciuto Alla prossima Alla prossima Alla prossima